Buonasera a tutti da Locuse Bar, che sarei io? Bene, sì, sono io, questa sera sono io, io sono io, je est notre, direbbe Rambo, e stiamo con Samuel Stern, che è un fumetto un po' particolare, lo segue l'Apocalisse, vedete c'è anche intorno, sotto c'è anche, fa anche un disegno, non l'ho accorto onestamente, non l'ho accorto ora, che è il 48 e il 49, quindi è la sagra, la sagra della porchetta, siamo dei castelli, siamo qua, cosciutti belli, e stiamo a vedere, no, la sagra della porchetta, la sagra, non la sagra, la sagra del porcino sul bugello, siamo sabato, per fortuna domenica è festa, e nonostante i miei colleghi abbiamo passato tutto il sabato a chattare su internet, su cose interessantissime come l'open day, di cui a me non me ne freghi niente, anche perché noi siamo una scuola dell'obbligo, quindi la gente ce l'ha venita a scuola, anche che venga da noi o vada da un altro, sa, la scuola che non ha dell'obbligo deve attrarre, ma noi dovremmo essere semplicemente un servizio offerto dallo Stato, nessuno fa l'open day all'ufficio del catastrocio, cioè, ma di che? Noi entriamo in questa logica, noi siamo un servizio, siamo, vabbè, facciamo gli open day, dobbiamo attirare i clienti, cioè venite da me che il mio vino è meglio di quello dell'Osterbicino, va bene, ma, naturalmente questa è un'altra storia, parliamo di questi numeri di Samo Esterne che sono ovviamente belli, questo numero mi ricorda molto il lungo addio, il 49, è un po' esemplificato, bella questa parola, esemplificato, suona bene, allegra, eccetera, eccetera, sul lungo addio, ovviamente è la, è Madison, era la moglie di Samo Esterne, non dispone, scopriremo che Sam Esterne è Samuel, è Samael, Samael è il veleno di Dio, tradotto dall'ebraico, che tutti certamente conoscono, chi è che non conosce un po' d'ebraico a casa, non parla l'ebraico biblico, oltre, non mica solo Biglino ha fatto i suoi studi, anche noi abbiamo fatto i nostri corsi, mi ricordo la mitica battuta di Woody Allen, andai dal rabbino e gli chiesi il senso della vita, me lo disse in ebraico, dovetti pagare 600 dollari di ripetizione in ebraico, è un po' questo il senso della vita, ovviamente, tra l'altro, la iscrizione di Cristiana Antiglia, no, questo, ovviamente, in questo non c'è padre Duncan, che è stato mandato a roba per, boh, non lo so, per la santa inquisizione, i disegni sono, ecco, i disegni faccio, se ho beso quello giusto, ho beccato quello giusto, ovviamente, la copertina è piccola di Vincenzo Tazzillo, ormai dopo 50 volte, 49 numeri, e facciamo i complimenti a Summer Star, che comunque è riuscita a toccare il quadrante, il quadrato, la meta di 50 numeri, che sono 50 mesi, quindi 12, 24, 36, insomma, circa tre anni in pezzo, quindi è un fumetto che comunque, rispetto a Dylan Dog, Dylan Dog, soprattutto quello della Baraldi, tende a usare l'horror, ma un po' come pretesto di parlare di cose di interesse così, tipo l'intelligenza artificiale, cioè, in realtà, anche l'ultimo numero di Jedi di Dylan Dog non era un racconto dell'orrore, era, boh, non lo so neanch'io, insomma, riflettiamo, c'è un po' quello che sfugge ultimamente a Dylan Dog, a Mars, quanto soffigo, è il senso dell'orrore, cioè nel senso che i mostri di Dylan Dog sono solo delle metafore, come i secchi d'oro della Terra scura, che è una metafora dei semi di grano, va bene, e naturalmente nessuno si spaventa, ieri abbiamo visto il racconto di Aser, la strega, è solo una metafora dell'intelligenza artificiale, noi va bene, ci siamo beccati il pippone, ma è utilissimo fare, però nel senso, io quando vedo, leggo un racconto di Lovecraft, naturalmente imparano tante cose, però lo scopo principale del racconto dell'orrore è fare paura, se un racconto del terrore non fa paura, forse ha perso nel senso della sua vita, nel senso che questa è un'acqua regassata, frizzata, questo invece è un caffè, la mia bevanda, pensate che io riesco a fare questa cosa, che solo pochi fanno, prendo dell'acqua, acqua normale, non frizzante, perché il caffè frizzante fa un po' schifo, non ho mai provato a fare il caffè con l'acqua frizzante, potrebbe essere un esperimento, poi ci metto sopra in un recipiente, c'è una sorta di strumento alchemico, che è di metallo, sotto c'è una base che contiene un po' d'acqua, sopra c'è un recipientino di metallo in cui metto la polvenera che è di caffè, chicchi di caffè tritati, e poi sopra c'è uno scompartimento vuoto, mettendo al fuoco l'acqua bollendo attraversa lo scompartimento del caffè, si impregna il caffè e viene fuori questa bevanda che si chiama caffè, io riesco a farla, è una cosa alchemica, perché non esiste in natura, sì lo so qualcuno sta chiamando l'autombulanza, però se ci pensate non esiste in natura il caffè, no, non esiste, è qualcosa che crea l'uomo, come il tè, non esiste il tè in natura, non esiste, andate in un bosco, vi potete abbeverare alla fonte d'acqua, ma non c'è la fonte del tè o del vino, ha lo stesso vino, è un procedimento alchemico, cioè il vino è un po' meno in ro, perché sto parlando, ah, devo parlare di samo esterno, scusate, no, dicevo i disegni, disegni, si trova, la disegnatrice è Chiara Colli, che ovviamente ha due fasi, la fase è molto, beh, sì, molto, non so neanche se è manga, tipo quei libri per l'infanzia, no, va bene, molto ovviamente poetica, in cui vediamo la civilezza di Nandog e il suo innamoramento per Madison, naturalmente Nandog scopre che Madison in realtà non è Madison, è Madison ma è un super Madison, nel senso che, sì, rimanda a lunga a Dio tramite un demone, una sorta entità demoniaca, che è questo qui, riesce a vedere, riesce a vedere il suo passato, è ovvio che ha una metafora, questo qui, non so come si chiama, non è l'inferno, è la prigione, come si chiama, no, si chiama, no, si chiama, vabbè, allora, c'era un fumetto, un fumetto un po' di tempo fa, che ora non mi ricordo, il regno, vabbè, comunque era una sorta di cinema diabolico, in cui un pubblico di, che poi è ovvio una metafora di noi che siamo attaccati ai social, vediamo, insomma, siamo, cioè non viviamo una vita, ma viviamo una sorta di ipnosi continua, mi ricorda It O'Clock in The Morning, un racconto di It O'Clock, che appunto era, che poi dà l'ispirato a essi vivo di Carpenter, in cui tutti siamo addormentati, siamo prigionieri di alieni, ma gli alieni o demoni non cambia molto, di entità, diaboliche che ci tengono in uno stato di sonno comatoso, e da Carpenter poi siamo andati a Matrix, che poi è lo stesso concetto, ma non si cambia alieni, demoni, insomma, creature che si nutrono degli uomini. Naturalmente l'essere umano c'è tutta la riflessione, questo credo che sia l'unico fumetto junghiano che esiste sulla faccia della Terra, cioè un fumetto junghiano, non avevo mai detto, però certamente il concetto di ombra, lo farò tanto lungo perché ovviamente se parliamo di Jung, parliamo di ombra, l'ombra è in questo caso Samestern è una zona d'ombra, ma tutti noi abbiamo l'ombra, l'ombra è il dottor, è mister Hyde che ovviamente è dentro di noi, chiamala possessione diabolica, chiamala ombra, chiamala... come volete, perché l'uomo, torniamo sempre al concetto che la realtà costruisce il cervello, nel senso che se io stabilisco che questa è una tazzina di caffè, questa non è una tazzina di caffè, è il mio cervello che la vede come tazzina di caffè, non so se... è il mio cervello che crea la realtà e creando questa realtà ne potrebbe creare delle altre alternative, un po' quelle che sono le teorie del New Age, la legge e l'attrazione, allora non sarò a spiegare tutte queste cose, intanto io me lo bevo il caffè, quindi è ovvio che noi tendiamo a vederci come il nostro cervello che è dentro la testa, il nostro corpo, le nostre mani, la realtà che è esterna, io prendo la tazzina, è tutto vero ed è tutto falso, perché non è che sia falsa questa cosa, ma è il nostro modo di rapportarci alla realtà, naturalmente se avessimo un altro cervello, un'altra forma, un'altra cosa, un'ape si rapporta alla realtà in un altro modo, vede le cose in un altro modo, lo stesso cane, un gatto, era le ricerche di Wittgenstein, ora io non sto, capite che qui hanno Wittgenstein, Jung e Tricchete Tracchete, Tricchete Tracchete, ovviamente Samuister deve fare i conti con la propria ombra, ovviamente angeli e demoni che si contendono la terra, gli angeli sono quelli con le ali, belle, ma anche luce, però il problema dei demoni, dei diavoli, con il tempo anche Satana era un angelo che poi è caduto, ci sono varie teorie sugli angeli nella battaglia iniziale, poi c'è la battaglia finale, l'apocalisse che vuol dire apocaliupto, vuol dire rivelazione, non vuol dire fine del mondo, non si può essere un'apocalisse, è ovvio che finisce il mondo, è ovvio che se vedo la fine di un film o la rivelazione di come va a finire, la fine di un film è sempre un'apocalisse in quanto rivela quello che eccetera eccetera, ora naturalmente parlare di ombra, di Jung, ho fatto dei video su Jung, credo, forse ne farò qualcun altro, ma oggi ho fatto un video su Dio contro il Tao, ma ovviamente siamo su Youtube, quindi naturalmente non è che faccio delle lezioni, anche il video di oggi era una provocazione, però se già uscite dal concetto dualistico io credo in Dio, io non credo in Dio e c'è mettiamo nel mezzo anche il Tao, che non so il Tao come lo identifichiamo, è Dio, non è Dio, ha una forza, non è una forza eccetera eccetera, naturalmente Sarvesta è un viaggio con angeli e demoni, questo cinema allucinato, che poi nella nostra mente è molto complicato, ora vi dovrei entrare in discorsi che non ho voglia di fare perché sarebbe troppo lungo, troppo, cioè, perché iniziarli e non finire, dice a Platone alcune teorie sono esoteriche, altre sono esoteriche, alcune cose devono stare dentro, altre possono andare fuori, come il cane, lo porti a fare la pipì la mattina, deve essere, il cane è esoterico e il gatto è esoterico, questo mi è avvenuto ora, non so come, ma cazzo, ma gli ecche 24. dici che è una cazza, è avvenuto a sta cazza, cosmica, il gatto esoterico, il放ce esoterico, ma scrivetene queste cose perché non meritano i posteri, devono sapere il livello dell'incretimento del 2023 no vabbè scusate il termine termine cazzata ma poi non è una brutta parola perché viene da un membro maschile che non ha niente di particolarmente brobrioso potremmo parlare di censura di censura ah sono Fatima Fatima naturalmente se io il problema della religione è che se io sono cristiano vedo il mondo anche se stavo guardando un video gli americani sono fissati con il satanismo the witch anche gli inglesi, le streghe quello che fanno tutti i nuovi cose però mi viene sempre il sospetto che pensate i satanisti in Giappone o in Cina non ci sono allora ci saranno arrivati ma non ci sono perché non ci sono in Cina i satanisti perché il satanismo ha bisogno di una religione cristiana capite secondo me la differenza tra i satanisti non è così fondamentale perché partono allo stesso punto di vista cioè dividono il mondo in Dio e Satana poi che mischiare la parte di Dio e di Satana è ovvio che per un taoista tutto questo non ha alcun senso se tu sei taoista cioè anche coloro che diventano satanisti in un certo senso accettano la Bibbia poi ci sputano sopra il taoista non gliene può fregare meno della Bibbia non si pone neanche il problema perché non c'è neanche un Dio creatore capite quindi non c'è neanche un diavolo oppositore quindi le cose sono molto cioè noi siamo anche si è parlato molto di patriarcato nel senso antropologicamente l'antropologo cioè ormai abbiamo gli antropologi che troviamo delle patatine nel senso che è ovvio che alcuni modelli culturali ci sono stati messi nella nostra testa da bambini quindi è difficile toglierci è difficile per noi uscire fuori dal modello angeli e demoni gli angeli sono quelli buoni l'angelo custode da bambini siamo cresciuti questo angelo custode l'angelo custode l'angelo custode noi poi ce l'abbiamo letto tentatore l'angelo custode può darsi che esistano perché poi i nostri sensi sono così però capite il giapponese taoista o zen non si pone il problema l'angelo custode non credo che abbia queste cose magari vede altri demoni altre cose naturalmente creature demoniere esistono in tutte le religioni anche nel buddismo o hinduismo quindi vabbè questo ci può stare creature angelici che aiutano gli uomini ci sono anche nel buddismo e nel taoismo ma questa sembra una lunga storia comunque è un fumetto che apre molte porte molti inferni molti paradisi molti tipi di rova in cui il salmo esterno in questo caso è un apocalisse questo fumetto è un apocalisse in quanto apocalitto in quanto rivela una parte importante del passato di salmo esterno la morte di medison e della nascita della figlia che è l'incontro possiamo dire insomma tra l'anticristo vabbè l'anticristo perché siamo esterno abbiamo scoperto dal nome precedente che è una sorta di anticristo che è una sorta di bomba orologeria che deve essere deve essere deve essere programmato per esplodere e quindi far venire la fine del mondo poi la fine del mondo che fanno cioè finisce il mondo un po' che fanno o angeli e demoni naturalmente pare ci sono gli angeli che si sono schierati da parte di Dio i demoni che sono angeli però sono tutti angeli questo andiamo sempre a ricordare sono sempre angeli che si sono schierati da parte di Lucifero e poi si sarebbe la terza via che sarebbe quelli che non sono stati da parte di Lucifero e non di Dio che Dante chiama gli ignami ma secondo me questi angeli non sono alcune teotone gnostiche vabbè e lasciare perdere ora non entriamo nell'ognosticismo collegano questa terza parte con l'umanità per alcune dottone gnostiche nei corpi umani di Adam e Deva vi erano due angeli inchiusi da Satan dentro il corpo e quindi la liberazione dal soma sema che il corpo come tomba per ritornare alla purezza eccetera eccetera ma sarebbe tutta una lunga storia che non facciamo l'ognosticismo ne abbiamo parlato l'ognosticismo comunque è un fumetto molto mi sono piaciuti molto anche i disegni di scusate per dire nel tecnico beh la storia è ovviamente Filadoro Saveniago e Fumasoli però anche i disegni proprio come nel lunga Dio ovviamente hanno questo tono fiabesco che si oppone al lato demoniaco cioè la storia d'amore di Mediso naturalmente ritorna alla sincronicità no ha sbagliato Fumet ecco perché non la trovavo ma perché no era quello prima è ovvio che hanno questo tono fiabesco questo tono quando ricordiamo i nostri vecchi amori in senso se l'amore dura finché dura e quando non dura più è pace perché nulla è eterno in senso quindi scopriamo c'è la legge la sincronicità c'è un sacco di cose però belli disegni vi faccio i complimenti al frontespizio terza e quarta di Capoletti da Antonio Mlinaric terza frontespizio questo è il frontespizio va bene sì va bene quindi comunque siamo esterne ovviamente perché la memoria anche su questo è un fatto cioè non è un fatto fisso cioè quando voi noi siamo una macchina che regista però nel momento in cui noi recuperiamo i nostri ricordi in un certo senso li manipoliamo e li cambiamo impercettibili quindi il passato non è una cosa statica cioè noi pensiamo da bambino per esempio vedo il mio padre che si ubriacava però non è una cosa statica nel senso ogni volta che io recupero quei ricordi è come un libro quando tu prendi un libro nel momento in cui tu apri una pagina in un certo senso cambi impercettibilmente poi ho impercettibilmente ho cominciato a fare la frase impercettibilmente il libro cioè i nostri ricordi non sono statici se vuoi più si passa il vecchio più si passa il tempo e per esempio più si ricordano fatti della prima infanzia verso i 20-30 anni difficilmente vi passate delle giornate a pensare quando avevate 5-6 anni perché è troppo vicino in realtà quando avete 50-60 anni allora la mente ritorna ai 10-5 anni capite che poi mentre dimenticate quello che c'è stato nel mezzo solamente il passato viene sempre continuamente modificato dal presente ovviamente non siamo noi che riscriviamo continuamente il nostro passato e forse riscriviamo anche il futuro cioè i ricordi in questo caso dice vabbè i ricordi passato futuro vabbè sarebbe una lunga storia che ora nel senso che se cioè nel senso noi il passato influenza il futuro ma il futuro potrebbe influenzare il passato è bella domanda nel senso che potremmo tornare indietro e modificare il passato in qualche modo si può fare e non si può fare ovviamente questa tipo Gesù risuscita un morto modifica il passato qualcosa che apparentemente ha avuto una sua conclusione e ci credo ovviamente Gesù lo cambia dal presente cambia il passato che in teoria sarebbe una cosa che non si potrebbe fare cioè se io prendo questa tazzina e la rompo la posso incollare naturalmente prendo tutti i pezzettini e li incollo uno per uno ma naturalmente quello che viene fuori non è la tazzina come era prima è un'altra cosa cioè se io prendessi questa tazzina e cadesse per terra in questa forma non esisterebbe più non potrei tornare cioè per la legge dell'entropia non potrei tornare indietro se riuscissi a modificare dal presente il passato dal presente di solito si modifica il futuro ma ammesso che esista il passato il presente il futuro ma qui torneremo a if time is past e qui diamo con if time is past the space and time in the sage the sire che cose eccetera eccetera la mosca che ha vissuto un suo giorno e ha vissuto a lungo come noi dunque viviamo per quanto ci è possibile finché l'amore e la vita sono liberi il tempo e il tempo e il tempo scorre via per quanti saggi non si andano ancora portami stami and time and away i fiori attenviati e la rugiada tremolava sul pralcio lampicante prima che l'ape volasse assuggere la rosellina di macchia erano già passiti ma noi affrettiamoci a coglierne ancora senza tristezza e poi languiranno and thou the flower of the life be firm yet let him be divine vabbè se i fiori della vita sono pochi facciamo che siano divini vabbè Thomas Eliot è un poeta americano che ha scritto le varie cose che è molto bello Eliot è un poeta che scrive le cose o di una noia mortale perché di solito mette in ordine tecnologica uno inizia a leggere la poesia che è la fabula for fister che è una palla pazzesca è leggibile e poi naturalmente anche anche la terra desolata può essere una palla pazzesca o bellissima cioè secondo me ci sono se non ci avesse mano messo mano messo messo mano messo messo mano pound sarebbe diventato un polpetto di leggere fortuna pound un po' l'alleggerita ma questa è un frumento che vi consiglio vivamente molto bello riflessioni molto profonde fatta l'idea che il frumento sia una cosa per celebrolesi per stupidi perché le persone intelligenti non leggono i frumenti leggono guerra e pace tostoi Anna Karenina il sangue di Monte Cristo la vita della bella il gatto sugli stivali ma le cose profonde si possono trovare ovunque le perle si possono trovare anche nel più si può trovare una pepita d'oro anche nel più lontano e sconosciuto rivo di montagna che poi sono poetiche stasera ma proprio una botta di poesia ecumenica quindi in realtà un fumetto che naturalmente perché onestamente la gente pensa a leggere io leggo Elliot nel senso non è che non leggo Elliot però a volte Elliot è una martellata diciamoci a legare sui coglioni generalmente le cose di io sono martellato anche Vieta a volte un po' le affinità rettive è bello ma a volte che succede? no niente non hai affettuato non ho affettuato molte cose quindi quindi ci sono delle cose allora meglio un buon fumetto che è un brutto ma non dico che non bisogna leggere però veramente a volte sono tutte le martellate sui coglioni che non finiscono ho detto allora sono una canzone volgare e dice allora no io ho scritto delle cose bellissime ma come tutte le persone ho scritto anche delle cose che insomma che ne so umoresche vabbè alcune cose sono belle ma altre cose suini eretto insomma io ne farei anche a me non so eppure ho scritto delle cose i quattro quartetti di erot sono un grande capolavoro perché lì ha raggiunto anche un grande poeta per raggiungere l'equilibrio per la perfezione deve un po' sudare sette camicie o quattro maioni e cinque mutande e sette paie di canzini quindi per arrivare ai quattro quartetti ha dovuto scrivere anche una palla pazzesca come favola per i claudenti eccetera eccetera oppure non so nel senso alcune cose di il canto d'amore di Alfred Puffrock alcune cose ne farei volentieri a me quindi e mentre anche questo è uguale per i fumetti fumetti come questo siamo esterni naturalmente è un fumetto che nasce come vedete cambia sempre il questo è verde questo è rosso il prossimo non so come sarà siamo esterni l'era dei dei bonelli va bene il prossimo numero sarà no Caglia non lo seguo più perché non ho letto il primo numero ma a parte non posso seguire tutto dov'è il prossimo numero non riesco a vedere il prossimo numero Caglia sono uno di questi ha il cavallo bianco dovrebbe essere questo il 29 dicembre il numero 50 è il cavallo bianco hanno messo qui piccino non si sa bene poi uscirà sì Pollera dei bonelli comunque è ovvio che come tutti i fumetti seriali nel senso di Dian Dog ha 476 numeri comunque nonostante che 50 numeri cominciano ad essere tanti come fumetto che ha la stessa struttura di un bonelli proprio con bonelli nel senso che c'è una storia che si conclude però il personaggio rimane sempre lo stesso insomma in teoria Summer Stern come Dian Dog è un personaggio fatto per durare in eterno l'eternità secondo gli uomini cioè non è una saga che si conclude praticamente se l'idea è quella molto italica creare un personaggio che finché la gente lo legge fa tutte le mesi un'avventura in cui nasce con la storia western nel senso che ogni mese sgabello gli indiani e poi vado avanti così finché il pubblico si fa due coglioni così abbonda abbandona il fumetto quindi è molto pesante avere un personaggio che tutti i mesi comunque gli devi creare è una storia nuova sono tutti i mesi cioè se è vero sono 12 mesi all'anno sono 12 mesi all'anno non tantissime però alla fine l'usura nel personaggio dopo 3 anni si sente nel senso quindi se Summer Stern non è sono riuscito a mantenerlo per ora in maniera abbastanza cioè nel senso non è diventato il cacciatore di demoni che ogni puntata caccia un demon comunque hanno evitato per ora questo scoglio insidioso della ripetitività che invece di Landog ultimamente un po' si sente nel senso che ogni mese la centrale di Landog dice mogde che parlavo sto mese vabbè l'intelligenza artificiale ma a Landog viaggiano un po' così secondo me quindi non c'è un progetto a lunga durata ogni numero di Landog gente no questo ho comprato l'azione mi ha dato un numero su gente voglio fare un video su gente quelle riviste da queste o quelle riviste non so quando andate dal dentista no queste riviste da dentista o da tipo c'è gente famiglia cristiana e me l'ha dato in omaggio la nazione che di cui ringrazio però è interessante mi sono messo a leggere ho scoperto le cose dei gossip veramente succosi ma con questo passo e chiudo perché se no passiamo ai gossip che è successo ultimamente Albano da controcorrente all'armi femminici bellissimo papà era un patriarca che mi ha insegnato l'umiltà poi Laura è il suo amore segreto ma non so nulla di tennis va bene Laura è il suo amore segreto ma di Gianni Schin sì immagini non temnista si apre il giallo dell'anello scompasso di lei di Diana io non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho la versione di Ilari anche fuce questa su Ilari e Totti ma devo dire da letto questa cosa mi sta mi sta prendendo mi sta prendendo chi è che avrà ragione tra Ilari e Totti ma e chiudiamo con Manzoni cosa avrebbe detto Manzoni Alessandro Manzoni di Ilari e Totti avrebbe preso gente avrebbe detto hai posto Rillardo a sentenza Manzoni chiudiamo e Namm a Namm cosa avrebbe detto Grazie a tutti.